Attivo come autore e cantante musicista dalla metà degli anni settanta, dopo una curiosa esperienza da autore di musica da discoteca, con la pubblicazione di un LP e tre singoli, sotto lo pseudonimo Hogar, entra in scena come cantautore impegnato. Nel 1987, con l'album Hai che comprende brani come Cuore di Vipera, Grand Hotel, storica avversione, pianeta Terra e che gli vale la targa Tenko alla rassegna della canzone d'autore, creata da Milcare Rambaldi in memoria di Luigi Tenko, per la miglior opera prima. Segue nel 1990 LLP Sono bello dentro, nel quale si trova la canzone artista Moribondo, brano dedicato a Piero Ciampi, che fa emergere le due caratteristiche più brillanti della scrittura di Ongaro. La ritrattistica attraverso le canzoni e l'etica resistenza di salvaguardia della memoria, dell'estetica, del bello, dell'artistico.